Muoversi fa bene alla salute per bambini e adolescenti Evitare nel limite del possibile attività prolungate senza esercizio fisico e intervallare le fasi di inattività con brevi pause di movimento attivo È comunemente riconosciuto che i bambini e gli adolescenti in età scolare oltre a svolgere le loro attività quotidiane dovrebbero fare almeno un'ora al giorno di moto Attività di intensità media o elevata I bambini di scuola elementare dovrebbero muoversi molto di più A qualsiasi età ogni attività supplementare porta benefici aggiuntivi per la salute Intensità media significa che il bambino mentre si muove può parlare senza difficoltà ma non cantare Intensità elevata significa che non è più possibile discorrere con altri Diversificare le abitudini motorie e sportive è fondamentale per uno sviluppo ottimale Durante questa ora minima al giorno o più volte a settimana si dovrebbero svolgere attività mirate che consentono di Rafforzare le ossa Rafforzare le ossa Stimolare il sistema cardiocircolatorio Rafforzare i muscoli Migliorare le abilità coordinative Mantenere l'agilità Per prevenire gli infortuni nello sport, nel traffico stradale e nelle attività del tempo libero Come ad esempio il nuoto, è fondamentale istruire correttamente, sorvegliare in funzione dell'età e fornire l'attrezzatura adeguata Mobilesport.ch è la piattaforma elettronica svizzera per l'allenamento e l'insegnamento dell'educazione fisica Grazie a tutti